In nome del popolo italiano, la prima corte di assise d'appello di Roma, visti gli articoli 592, 599, 605 del codice di procedura penale, conferma la sentenza del GUP presso il Tribunale di Roma in data 21 febbraio 2017 appellata da Foffo Manuel, dal procuratore generale e dalla parte civile Marta Gaia Sebastiani. Dichiara inammissibile l'appello proposto dal procuratore generale. Condanna Foffo Manuel alle spese del giudizio d'appello, nonché a rifondere alle costituite parti civili le spese del grado di giudizio che liquida in Euro 4.500 per ciascuna parte civile, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e Cassa Avvocati come per legge. Giorni 90 per il deposito della motivazione. L'udienza è tolta.